Una voce dal passato. Adam capisce che l'istinto lo ha premiato, tra quelle macerie una scoperta inestimabile. Aveva poco tempo, minuti non di più. Superò con un balzo il varco nel muro e si inerpicò sulla scala che portava dietro la costruzione. I gradini, fatti con materiali poveri e usurati, franavano sotto i suoi piedi. Adam li percorse, reggendosi al corrimano arrugginito fino al tettuccio crollato che bloccava il passaggio. Non sarà questo a fermarmi. Spostò vecchie tegole, mattoni, travi marcite e si affacciò su un corridoio di nuovo all'aperto. A destra le macerie della casa, in fondo dietro l'angolo un'altra scaletta ancora più piccola e misera che terminava in un minuscolo terrazzo. Là dietro tutto era quasi intatto, come se la rovina del pianeta avesse miracolosamente rispettato quel minuscolo angolo di territorio. Era stato sicuramente un piccolo giardino che ancora lasciava indovinare la sua struttura di vialetti, vasche, fontanelle, persino i resti di una serra, i cui vetri erano sparsi un po' ovunque. Suo malgrado, Adam dovette fermarsi un attimo ammirato. Qui si racconta una storia mai detta, la storia remota di umani felici che vivevano alla luce del sole in case grandi, eleganti e spaziose. Questa era la loro perduta civiltà. Al centro del terrazzino vide il portone di legno, che una volta era stato di un bel verde pino, armato da complesse serrature, in bilico sui cardini senza più stabilità. Bastò un calcio per abbatterlo. Gli si aprì un sottotetto dagli arredi quasi intatti, anche se avvolti da ragnatele ricoperti di polvere antica. Tanfo di vecchio e di umidità. C'era ordine in quel caos. Poteva essere il suo alloggio in antiade, anche se più ampio e luminoso. Percepì lo spirito di chi lo aveva abitato e capì che non era finito lì per caso. Continuò l'esplorazione. Altri vani, un bagno. A destra un barco nel muro dava accesso ad una sala più grande la cui unica finestra aveva ancora i vetri intatti. Su quei vetri si era riflesso il raggio al tramonto. Da quella stanza qualcuno lo aveva chiamato. Scaffali pieni di libri ovunque, reperti antichissimi e desueti che aveva visto una volta al museo. Carta per appuntare idee, bastoncelli di inchiosto per scrivere. La scrivania aveva una cassettiera che adana aprì febbrilmente. Ancora fogli, scritti indecifrabili. E non era possibile. Un vecchissimo laptop, polveroso, incrostato ma intatto. Si era fatto tardi. Il richiamo esplose nel biochip. Quasi senza riflettere, Adam infilò il piccolo computer nello zainetto che portava dietro le spalle e si buttò a capofitto giù per la collina. Senza essere notato, rientrò al campo. Adam aspettò che fosse notte fonda. Per l'eccitazione non aveva neppure cenato. Appena i rumori della colonia si attenuarono, appena subentrò quella breve tregua che assopiva urla e strepiti della umanità in delirio, estrasse il laptop dallo zainetto, con cura quasi religiosa, e lo depose sul piano di lavoro. Emozione e impazienza si mescolavano, mentre spolverava delicatamente quel guscio e gli toglieva ogni incrostazione. Finalmente potesse allevarne il coperchio. Lo schermo era intatto. Ogni comando sembrava efficiente. Le mani tremanti lo collegarono alla fonte di energia. Era un oggetto antico, ma non molto diverso dalle macchine cubizze che Adam usava ogni giorno, e non fu difficile attivarlo. Madre de Dios, funziona ancora. Lo schermo si accese e decine di piccole icone ammiccarono, pronte a rivelare tutti i loro segreti. C'era una volta. La vera storia dell'umanità inizia a rivelarsi. È vissuto 300 anni fa. Adam non stava in sé per l'euforia di comunicare a no alla nuova scoperta. Solo nei campi poteva parlare liberamente, quasi certo di non essere ascoltato dalle apparecchiature di sorveglianza che in Antia deregistravano ogni gesto, ogni parola, ogni sospiro della colonia. Sicuramente una persona bizzarra, particolare, come noi insomma. Quel computer è una miniera di informazioni, un ponte con il nostro vero passato, con la nostra storia. Chi lo aveva in uso era qualcuno che studiava, scriveva e cercava continuamente la verità, in possesso di uno sterminato numero di informazioni, capace di sintetizzarle e ricavare così un'analisi perfetta. Era arrivato a un livello di consapevolezza e di comprensione quale nessuno fino allora era stato capace. Quindi sei certo che un tempo gli umani abitassero la superficie della Terra? Certo, Noah, non più di 300 anni fa. Dalle informazioni racchiuse nel laptop si intuisce come anche allora esistessero molti dei problemi che affrontiamo oggi. Primo tra tutti la mancanza di libertà, ma ancora si viveva alla luce del sole e delle stelle. Il vecchio non era stupito. In fondo aveva conferma di quello che profondamente aveva sempre percepito. Ma queste parole così esplicite gli suscitarono mille curiosità. E la Terra era popolata di milioni di specie viventi, vero? E ognuna in armonia con le altre e con la natura. Una volta era così. Una volta, tu dici, poi che successe? Una volta si era veri, liberi, sani e felici come ogni altro vivente del pianeta. Eravamo pochi allora, molto pochi, e non c'era alcuna legge tranne quella che la natura mette nel nostro cuore. Era musica per il vecchio, musica dolce che spalancava le porte dell'anima. Per milioni di anni raccolti in piccoli gruppi abbiamo vissuto in armonia col creato. La Terra brulicava di vita. C'erano territori e cibo in abbondanza per tutti gli animali. Fossero della terra, del cielo o delle acque. Nei gruppi umani vigevano solidarietà, condivisione e fratellanza. Ogni gruppo, lo chiamavano branco o tribù, 80-100 componenti al massimo, era composto da nuclei più piccoli, le famiglie. Un maschio, una femmina, i loro piccoli e i vecchi. I figli nascevano ancora col parto delle femmine e per due anni succhiavano latte dai capezzoli materni, ricevendo insieme cibo, vita ed affetto. Nessuno si sentiva solo e abbandonato, neppure quando le forze mancavano e la vita riservava solo poche primavere. Grazie ai due diversi insostituibili riferimenti, il padre e la madre, i maschi assumevano il ruolo di uomini, le femmine e quello di donne. Adam parlava come un fiume in piena, mentre raccoglieva baccelli di soia e riempiva uno dopo l'altro sacche sempre più pesanti. Si stava liberando di un macigno che lo aveva oppresso per tutta la vita, una montagna di menzogne, di funzioni e di paure. Noah ascoltava affascinato. In realtà l'unica vera società era la famiglia. Più famiglie si univano e cooperavano a fronte di necessità. Una importante battuta di caccia, ad esempio, o un pericolo comune. Superata l'insorgenza, ogni famiglia tornava libera e svincolata dalle altre. Si chiama sistema sociale di fusione-fissione. Nel branco e nella famiglia il rispetto dell'individuo era assoluto. Non c'erano gerarchie, non esistevano caste, il cibo era abbondante per tutti e lo si procurava lavorando pochissime ore al giorno. Cacciavano animali erbivori, pesci e uccelli, oppure raccoglievano bacche e radici delle quali la natura era generosa. Prendevano solo quello che serviva giorno per giorno, senza impoverire l'ambiente, anzi facendolo divenire sempre più prospero. Non c'era fame né miseria. Si chiama economia di sussistenza. È comune ad ogni animale di grosse dimensioni. Anche le formiche? grosse dimensioni, ti dicevo. Le minuscole formico che, come altri piccoli insetti, praticavano esattamente come adesso un'economia di produzione. Ma una formica è grande un millimetro e pesa meno di un grammo, quindi è difficile che possa mettere in crisi un intero pianeta. vivendo del cibo che la natura aveva destinato solo alla loro specie, nessuno era grasso, nessuno si ammalava. Solo incidenti o schermaglie per qualche femmina potevano metterne a rischio la vita, mentre l'elevata mortalità infantile era il meccanismo benefico voluto dalla natura per evitare la sopravvivenza di individui non idonei a sostenere la pressione ambientale. Per due milioni e mezzo di anni la loro tecnologia rimase stagnante, non andò oltre le pietre scheggiate e qualche ascia. Ma nessun essere vivente in realtà ha bisogno di tecnologia. Fiori, alberi, leoni, antilopi e uccelli, tutti prosperavano splendidamente proprio grazie alla mancanza di tecnologia. Tu mi racconti un'età dell'oro, un'epoca troppo bella per essere vera ad An. Dov'è il serpente? Appunto, il serpente. All'improvviso 13.000 anni fa o giù di lì qualcosa cambiò all'improvviso e drammaticamente. Stranamente accade nello stesso momento su tutto il pianeta. Si trattasse di umani o di un'altra specie non è chiaro. Sicuramente erano individui che ragionavano con i numeri, non con i sentimenti. Fummo ridotti in schiavitù, addomesticati e costretti a servirli in una economia di produzione esattamente come le formiche. Sarebbe stata definita rivoluzione agricola. Mentre parlava Dan che arriva a se stesso prima di ogni altro, concetti e idee finora solo intuiti che adesso trovavano conferma. Riprese con enfasi. Devi sapere che senza profitto l'economia non ha senso. Non puoi spendere 10.000 calorie per ottenerne 500. Moriresti presto di sfinimento e di media. L'economia di sussistenza era ampiamente profittevole per tutti. Caccia e raccolta assicuravano pieno benessere all'intera famiglia. Con la nuova attività economica la produzione agricola è ricostretto a romperti la schiena 10 ore al giorno sotto il sole cocente per ricavare dopo un anno di massacranti al lavoro solo qualche sacco di grano, il minimo per sopravvivere. Nella economia di produzione il profitto lo ha solamente il padrone del campo. Mille lavorano e lui si arricchisce, ma nel tempo questo sistema, innaturale per l'essere umano, collassa e ogni profitto svanisce. Il costo del lavoro è comunque troppo alto per essere sostenuto. Le guerre si fanno per questo motivo. Accaparrarsi nuovi territori, risorse, mettere in ginocchio la popolazione che successivamente sarà disposta a lavorare gratuitamente per ricostruire. Così almeno provvisoriamente riparti una economia che essendo innaturale non funziona. Oltretutto diviene causa di tensioni sociali e di sofferenze altissime che dovranno essere repressi a caro prezzo. Siamo primati, non siamo i menotteri. Questo allora non fu compreso, oppure lo si sapeva benissimo e venne messo in conto. In fondo non pagava mai la dominance, pagava sempre e solo la popolazione. Questa stessa logica economica venne successivamente trasferita in mutata all'industria e poi ai servizi. Era tutto così chiaro che Adan si stupiva che quasi nessuno lo avesse compreso o comunque ne fosse consapevole. I domesticatori del genere umano, chiunque fossero, dovevano ben conoscere i limiti intellettivi della nostra specie. Si passò così all'improvviso e senza ragione apparente ad una economia di menotteri dove centinaia, migliaia, poi milioni di individui furono costretti in lavori sempre più specializzati, determinando caste sociali, guerrieri, operai, campesinos, preti, legislatori. La società si adeguò di conseguenza. Da paritaria dove tutti erano uguali e il ruolo sociale più importante era riservato alla famiglia, divenne verticistica, piramidale. L'individuo, da soggetto privilegiato, divenne popolo, plebe senza valore, mentre una gerarchia di caste decideva per lui, per la sua famiglia, per la sua vita. Al vertice il re, il faraone, l'imperatore, in altre parole la formica regina, quale è oggi la nostra suprema singolarità. Tutto questo avveniva sempre e comunque nel nome di un astratto bene comune. Da nomadi gli umani divennero stanziali, sorsero città, l'analogo dei formicai, i nidi delle formiche. Vennero promulgate leggi, si costrinsero a versare tasse, a spogliarsi in pratica di quello che avevano, con la propria fatica e con il proprio sudore raccolto. Costretti al cibo innaturale che ancora oggi siamo forzati a mangiare, la salute degenerò ed esplosero le malattie. Per mantenere questa gente sottomessa si ricorsi a molti artifici, spesso basati su concetti astratti o parole, qualcosa che si chiamò cultura e informazione. Progresso, civiltà, tecnologia, divennero fetici, falsi idoli da adorare. Dio, libertà, democrazia, alibi per giustificare ogni atrocità. Indottrinati fino dalla più tenera età e sottomessi alla propaganda di massa abilmente dissimulata, gli umani vissero, come adesso, in un mondo virtuale, creato ad arte per tenerli soggiocati. Intanto questa economia dai menotteli, viste le nostre umane dimensioni, devastava il pianeta consumandone senza risparmio ogni risorsa. Per l'umanità, ma a ben guardare per l'intero pianeta, iniziava un'era di terrore. La civiltà dell'amore che finora aveva permeato il creato, diveniva civiltà di morte. Denaro e predazione furono i nuovi idoli delle masse, convinti ad arte che se fossero divenuti squali anch'essi avrebbero ottenuto ricchezze e privilegi. Vennero meno solidarietà e fratellanza, condivisione e affetto. L'uomo si trasformò nel lupo dell'uomo, predatore cannibale dei propri simili. In cambio di niente, ma a tutto vantaggio del potere. C'era anche un altro problema. Nella biodiversità del pianeta è previsto che i predatori, e noi lo fummo e lo siamo tuttora, abbiano un numero contenuto rispetto alle loro prede, altrimenti le fonti alimentari rapidamente si esauriscono. Leoni, orsi, tigri, ma anche scimpanze, squali e delfini avevano numeri ridotti in confronto ai milioni di ruminanti e dei pesci dei quali si nutrivano. Con il passaggio alla nuova economia, comunque, dopo milioni di anni di stagnazione quasi assoluta, la tecnologia esplose e in pochi millenni, misteriosamente, si passò dalle asce di pietra ai viaggi nello spazio. Nel frattempo, il nuovo cibo così innaturale diverso ma ricchissimo di zuccheri, in ogni stagione dell'anno, rendeva cronicamente fertili le femmine e la popolazione, dapprima lentamente, poi in maniera esponenziale, iniziò ad aumentare oltremisura. La scudisciata del taser lo raggiunse alla schiena. «Basta tu! Taci e lavora!» «Sì, Adam, lavora adesso. Ci sarà tempo per continuare i nostri discorsi». Capisci, Noah? Ebbe solo il tempo di concludere. Tu ed io non siamo un difetto di fabbrica, non siamo un errore di progettazione, non siamo sbagliati. Il sistema è sbagliato. Il sistema è contro natura e ci obbliga a vedere una realtà che non esiste. La sacca era ormai traboccante di baccelli e Adam se la caricò barcollando sulle spalle, dirigendosi verso uno dei giganteschi tank di raccolta.